Gentili telespettatori, buona giornata. In una nota recente il Partito Democratico dice i responsabili non ci sono, il rischio è che si vada a votare a giugno. I cosiddetti responsabili non ci sono, la maggioranza dopo lo strappo con Renzi non esiste più, quindi è reale il rischio di elezioni a giugno e l'analisi che in queste ore stanno facendo fonti qualificate dal Partito Democratico, citate dall'agenzia ANSA dove si registra grande preoccupazione. Il PD, spiegano le stesse fonti, non può andare dietro a rumors su sostegno alla maggioranza che al momento non si palesano. D'altro canto anche ricucire con Italia Viva sembra una chimera perché il Movimento 5 Stelle ha chiarito che con Matteo Renzi non ci parla più, quindi senza volerlo è l'analisi del PD. La situazione sta rotolando verso le elezioni anticipate a giugno. Questa dichiarazione è delle 11 e 24. Grazie e buon proseguimento di giornata.